Con il via libera del Presidente della Provincia di Rimini, Rizziero Santi, il metromare ha ottenuto l'ok definitivo. Il decreto infatti istituisce a tutti gli effetti la linea del trasporto pubblico locale. L'atto definisce il programma d'esercizio della linea, ovvero i chilometri di percorrenza, le fasce orarie, le frequenze, il numero di corse, la suddivisione tra feriale e festivo. Con questo atto si conclude l'iter procedurale che aveva avviato la provincia dal momento della convocazione del Comitato di Coordinamento del TRC, che si è svolto lo scorso 22 agosto. Sono stati interpellati i comuni interessanti, PMR in quanto società che ha realizzato un'infrastruttura, l'Agenzia della Mobilità della Romagna, cui compete l'organizzazione e il monitoraggio del trasporto pubblico. E a vale di questo percorso si è proceduto all'approvazione dell'atto che accende il semaforo verde per l'avvio del metromare. Quello che ho firmato, ha dichiarato Santi, è il decreto che costituisce di fatto il libretto di circolazione di metromare. Si tratta dell'ultimo atto istitutivo della linea e autorizzativo della circolazione. La tratta Rimini-Riccioni è stata acquistata da PMR in gestione da parte della provincia, che ha espletato in poche settimane dall'incontro del coordinamento del 22 agosto scorso tutte le procedure necessarie a far partire il servizio. Come ho detto all'inizio, aggiunge Santi, la struttura ceva hanno messe alle spalle tutte le polemiche e le remore e va fatta funzionare nell'interesse del nostro territorio. Ora gli ultimi due passaggi conclude, già programmati per l'11 e il 16 ottobre, con le riunioni di coordinamento e assemblea social e MR per dare via al servizio.